E di nuovo boom di contagio, sciacca nella settimana in cui dopo due anni cesserà lo stato di emergenza nazionale, verranno meno tutta una serie di restrizioni. Oltre mille gli attuali positivi, quelli ufficiali, ma il dato appare sottostimato, posso che tanti ormai non ricorrono ai drive-in e neanche alle farmacie autorizzate per effettuare i tamponi, ma li fanno a casa, acquistando i test anche online. Anche il tracciamento, quello che dovrebbe effettuare l'ASPE, ovviamente è saltato con questi numeri. Il dato confortante è che l'elevato numero di contagiati non ha fino ad oggi determinato un'impernata di contagi, seppure oltre al Covid-Ospital e di Ribera sia ancora necessario destinare ai pazienti positivi anche la medicina dell'ospedale di Agrigento. Il virus circola soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, nonostante le regole della quarantena siano state ridimensionate fino ad essere eliminate del tutto dal 1 aprile, quando rimarranno a casa solo i positivi. Di fatto le classi sono già oggi svuotate, come avveniva anni fa nel picco dell'influenza. La novità nelle scuole è che rientreranno in servizio docenti e personale Ata Novax in questi mesi sospesi e senza stipendio, seppure gli insegnanti dovranno essere destinati ad altre attività, non potranno tornare in classe fino alla fine dell'anno scolastico. Anche le forze dell'ordine che non si sono vaccinate in questi mesi rientreranno in servizio e torneranno però alle loro mansioni. Di fatto rimarranno sospesi solo gli operatori sanitari Novax e fino al 31 dicembre prossimo. Sul fronte vaccinazioni, peraltro ormai da settimane, gli abbe sono deserti. Si attendono decisioni in ordine al mantenimento di queste grandi strutture, ma intanto all'abbe di Contrada Perriera Sciacca, aperto solo la mattina con un medico e un infermiere in servizio, è stato ulteriormente ridotto da 36 a 18 ore settimanali il contratto degli amministrativi. Addirittura al centro di vaccinazione pediatrica dell'ospedale si accorpano le poche prenotazioni in giornate specifiche. Indubbiamente il venir meno dell'obbligo del Super Green Pass per tantissime attività a partire dal 1 aprile ha generato come effetto quello di vedere ridurre significativamente le vaccinazioni. Tra pochi giorni infatti non sarà più necessario esibire il certificato ottenuto con la vaccinazione per accedere a bar e ristoranti all'aperto, ma anche per prendere un mezzo pubblico, entrare nei negozi, in uffici, andare dal parrucchiere. Sarà necessario ancora per piscine, palestre, centri benessere, cinema, teatri, discoteche, cerimonie e feste. Per tutto il resto sarà sufficiente esibire il Green Pass base, quello che si ottiene con il tampone negativo, ma anche questo dal 1 maggio verrà del tutto abolito. Intanto sono stati diffusi questa mattina i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali sull'andamento del Covid in Italia. L'occupazione dei posti letto la settimana scorsa è aumentata in 10 regioni e tra queste c'è la Sicilia. Nell'isola risulta occupato l'8% dei posti disponibili nelle terapie intensive, la scorsa settimana era al 7% e il 25% dei posti letto ordinari rispetto al 24% della settimana precedente. Cresce anche l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti.